Intanto inizia a pedalare, loro vedono che arriva. Sì, ma dopo fate cambio? Io non ho mai fatto sta roba. Non posso sedermi sopra? Ah sì? È be... Stai fermo! È bellissimo da qua. Sembra di essere in crociera. L'acqua sembra quasi pulita. Eh, infatti, si vede in fondo? Oh, vai laggiù! Oh, schiavi, pedalate laggiù! È figo da qua, sì? È figo da qua sopra. Oh, ricordati da dove siamo venuti. Perché quasi... Dove ci sono quelli che erano iniziali? Ah, beh. E poi inseguiamo con i là. Gira, gira, gira! È girando! Stai andando il testo? Eh, gi... Eh, gi... Stai andando il testo? Stai andando il testo? Eh, gi... Eh, gi... Eh, gi... Non c'è neanche una scaletta. Questa non si sblocca. È girata un testo. Non c'è... Già, gi... And 세상 qua! Ci so... Siete latini? Ehm... Notizio? Sia andando. Ehm... Non è riuscita rumore。 Esa interessante da spiegare. Ehm... Oh io non salto più eh Però è fio eh